Buonasera a tutti, oggi ho il piacere di avere in studio Francesco Giunta, cantautore palermitano che io ospito veramente con grande piacere, lo ringrazio per questa partecipazione. Francesco Giunta è poco conosciuto al pubblico palermitano, anche se molto conosciuto, però rispetto a quello che penso io, lui meriterebbe molto di più, ecco perché ho voluto rendere omaggio a tutte le sue canzoni, noi manderemo nel corso di questi giorni dei video dove sono raggruppate parecchie sue esibizioni musicali, però io vorrei fare conoscere veramente al pubblico palermitano chi è Francesco Giunta, ecco perché l'ho inviato, capisco che lui è un pochettino restivo forse a partecipare a delle trasmissioni televisive, io l'ho forzato e quindi ora sono qua e una volta che l'abbiamo qua cerchiamo di fargli dire tutte le cose che può dire pure quelle che non vorrebbe dire. Francesco tu dici, io ti dicevo come ti chiamo, cantautore, tu non eri molto d'accordo che io ti chiamassi cantautore, però non trovevamo un'altra parola che ti potesse, sì, ti potesse. Intanto io ti ringrazio di aver insistito, di aver forzato questa mia presenza qua e ti dico che sinceramente mi fa piacere ed è anche un'occasione per salutare gli spettatori che seguono i tuoi programmi. Definirmi come, sì cantautore è il termine tecnico più adatto perché sono uno che canta le cose che scrive, è una parola un po' troppo utilizzata e in realtà ho fatto anche delle altre cose, comunque sono un amico della musica e soprattutto della musica che canta in siciliano. Allora, quando nasce questa tua passione per la musica? Cerchiamo di appunto... Ma come tante della mia generazione nasce sostanzialmente quando da giovanotto mi viene regalata una chitarra e comincio a... Quindi da bambino, diciamo da ragazzino. Sostanzialmente sì, avevo 12 anni quando ho cominciato, diciamo, ad avere a che fare con la chitarra. Quindi davvero... Però a 12 anni generalmente i ragazzini pensano alla musica moderna. Dico, tu non sei vecchio. Però in quel periodo tu invece di scegliere la musica moderna di quel periodo, scegli sin dall'inizio. Io scelgo sin dall'inizio la canzone d'autore, diciamo, per un fatto così di impegno. Insomma, ritenevo... Tra l'altro erano anni in cui serviva dire certe cose e sentivo che nella canzone d'autore italiana, parlo di De Andrè, di Gabber, di Endrigo, ci fosse davvero tanto da poter dire. Quindi inevitabilmente cominciai stimando e cercando di cantare e di suonare l'oro e poi di scrivere come l'oro in un qualche modo. E quindi però... Poi tu canti in dialetto siciliano. Come mai poi questa trasformazione? E questa trasformazione perché intanto appartengo ad una generazione a cui il dialetto, come ricorderai, veniva negato, no? Quando noi si andava a scuola all'elementare era vietato parlare in dialetto, no? Perché c'era questa idea che si dovesse tutti far riferimento ad un'unica lingua nazionale e soprattutto i dialetti meridionali furono molto penalizzati da questa cosa qui. Crescendo e diventando un po' più padrone delle mie scelte e incontrando poi soprattutto la voce di Rosa Balestereri, la voce di Sciobusacca e più avanti la voce di Pino Veneziano, l'idea di poter recuperare un codice forte come il dialetto siciliano è venuta fuori e allora ho detto da adesso in poi canto e scrivo in siciliano. Ecco, tu hai nominato tre grandi, però io mi volevo soffermare su Pino Veneziano perché facendo una ricerca di tutti i brani musicali su YouTube e in altri posti ho trovato questo Lamento per la morte di Turi Carnevale che parla di Pino Veneziano. Sì, cantato da Pino Veneziano. Sì, canta Pino Veneziano di Turi Carnevale. Come mai tu hai seguito questo, diciamo, hai portato avanti pure questo Lamento per la morte? Intanto il Lamento per la morte di Turi Carnevale è un testo di Ignazio Buttitte che a suo tempo fu musicato da Ciccio Busacca e quindi in un certo senso è uno dei primi manifesti della Sicilia migliore contro la mafia, diciamo, no? Perché è un testo straordinario, davvero è un manifesto della Sicilia migliore. Ma lo sai perché ti faccio? Perché io te l'ho scelto pure tra i brani. Perché già noto che sin dalle prime battute tu portavi avanti appunto un tipo di canzone impegnata. Quindi avevo un'attenzione pure per le canzoni impegnate. Oltre ai nomi che hai fatto di De Andrè Di Laussi, c'era dell'altro anche nella tua scelta musicale. Nella mia scelta musicale, oltre al codice linguistico, al siciliano, inevitabilmente partendo dalla canzone d'autore arriva la canzone di impegno politico in un qualche modo comunque di impegno sociale. Perché definire impegno politico o la canzone di Rosa o la poesia di Buttitto dello stesso Pino Veneziano è riduttivo se non si pensa al termine politico nel senso più ampio del termine, diciamo. Ma non pensavi che portare avanti un discorso pure di impegno sociale e politico in dialetto fosse più difficile rispetto alla lingua italiana? Ma questo sicuramente è stata, ed è per certi aspetti tuttora una scelta impegnativa, ma penso sia la cosa che serva a questo nostro mondo, a questa nostra terra soprattutto. Serve cantare in siciliano e cantare della cosiddetta. Allora parliamo ancora dei primi anni. Che cosa succede nei primi anni della tua professione? Nei primi anni della mia professione sostanzialmente io... In 91 ci arriveremo più tardi, perché abbiamo purtroppo una scoletta da seguire, perché abbiamo i brani scelti che ci impongono. Come dicevo, la mia passione nasce in età puberale sostanzialmente, ed è intanto per i cantautori in italiano. Inevitabilmente mi trovo a scrivere in italiano, e proprio di recente ho condiviso su YouTube un video di una cosa che ho scritto nel 75, pensa un po', che è appunto Storie del Re, che ho utilizzato... Ma lei è quella Sua Maestà? Sì, Sua Maestà. E quindi era il 75. È una delle prime cose che scrivo in italiano. Se vuoi possiamo partire... No, no, dico Sua Maestà, ti dico qualcosa che... Sua Maestà è sostanzialmente una canzone che racconta la storia di un re che pensa di... che chiede ai suoi scienziati un metodo per sopravvivere. In realtà non sopravviverà, perché come tutti gli tocca finire, e finirà per mano di un suddito, perché dice alla fine la canzone che chi governa col terrore prima del suo tempo muore. Non c'è possibilità di vivere al di là per un dittatore, diciamo. Questa è l'idea. È evidentemente un'idea giovanile che faceva riferimento appunto alla canzone dell'autore italiana di quegli anni. e niente, l'ho pubblicata in questi... di recente proprio, perché l'ho utilizzata per aprire un incontro in Aula Magna con gli studenti di Lette. Allora parleremo poi di questo tuo impegno. Dico, collegata a questa, molto vicina, ce ne sono due che ho trovato, ed è Piccola Italia e poi Ucappeduzzo. Non riuscivo a collocarli bene, però Ucappeduzzo prima, dopo il 75, è stata una delle prime tue... Ucappeduzzo, sì, è una delle prime cose in siciliano, fa parte di un periodo in cui ho pensato, ho riduto opportuno scrivere delle cose sull'umorismo in dialetto, perché una lingua è, come dire, dimostra la sua forza, la sua capacità di essere uno strumento importante di comunicazione quando ti consente di affrontare tutti gli stati d'animo, umorismo compreso. E se lì c'era Ucappeduzzo, mentre Piccola Italia è di un periodo ancora successivo, diciamo, ed è una cosa che faccio con Edoardo De Angelis negli anni, nei primi anni 90. Che è scritta a più mani, perché ho letto qualche cosa, però gli appunti non li ho portati dietro, devo cercare di ricordare quello che ho letto. Ti dico molto volentieri, si tratta di una canzone che ho scritto a quattro mani con Edoardo De Angelis, che è questo cantautore romano del quale sono molto amico da tanti anni, e siamo amici fortunatamente anche al di là della musica. E negli anni 90, quando venne fuori la Lega con i discorsi di Bossi di quegli anni, il separatismo, l'idea di frantumare l'Italia, io e lui che venivamo sostanzialmente da due posti lontani di questo stesso paese, abbiamo sentito il bisogno di raccontare questa Italia definendola piccola, ma piccola nel senso frentuoso e da non dividere, insomma. Allora, dall'Italia dobbiamo passare a Palermo, a cui tu dedichi, no, ma tu dedichi gran parte della tua, diciamo, la tua produzione musicale la dedichi a Palermo, soprattutto con Porta Felice, prima parte e seconda parte. Dico, io onestamente non l'ho potuta seguire tutta, in gran parte, perché è abbastanza lunga, però chiaramente si dimostra l'attenzione che tu hai nei confronti della città di Palermo, dei suoi monumenti, delle sue bellezze che sono notevoli. Ecco, che cosa ti rimane? Che cosa hai pensato nel momento in cui l'hai composto e ora come li vedi queste tue opere? Ecco, vedi, intanto, come dicevo prima, scrivere in siciliano fu un passo per recuperare il mio codice linguistico più intimo, più importante per me, no, che è appunto il siciliano. Ma se canti nella tua lingua devi anche cantare dei posti in cui vivi, perché se non ci rendiamo conto che esiste una realtà nella quale normalmente viviamo, finiamo per vivere tutti all'interno dei social network adesso o degli schermi televisivi. Quindi cantare Palermo per me significa continuare su quel lavoro di recupero della parte più originale, più... In effetti Porta Felice è il lavoro più completo che tu hai fatto su Palermo. Sì, è un omaggio sostanzialmente, è tutto un disco che ho pubblicato nel 94, ed è per certi aspetti... E perché in due parti? No, beh, in effetti è il video che è in due parti, diciamo, su... Però è tutto unico. È un unico viaggio, diciamo, io ho immaginato in questo Porta Felice che un viaggiatore arriva dal mare, trova la città di Palermo addormentata, entra da Porta Felice, quando passa a Porta Felice questa città si risveglia e mostra tutte le sue anime. Lui farà Corso Vettorio Emanuele verso la cattedrale fino a Porta Nuova e in questa passeggiata, all'incontrario della passeggiata che normalmente noi immaginiamo per Palermo, che è quella del carro di Santa Rosalia. Insomma, questo viaggio verso l'interno, verso il cuore della città, lo porterà a scoprire tutte le anime. Cioè, i lavori sono tanti, io non so se riusciremo a parlare di tutti, però perché io sono particolarmente affezionato a questi tuoi brani. E quindi noi trattiamo alcuni brani come questo Porta Felice, che proprio sono dei brani particolarissimi, dove si evince chiaramente l'amore per la città di Palermo, per l'arte, oltre che per il bidetto siciliano. Però poi ce ne sono altri particolari, questo Bedda d'intra la notte. Una Bedda d'intra la notte è un altro frammento. Io so a che cosa si riferisce, però è bene che lo dici. Come sai, ho avuto modo, anche perché adesso è da quasi 30 anni che mi occupo di tutto questo, quindi ho collezionato, per mia fortuna e spero anche per la fortuna di chi li ha ascoltati, dei diversi lavori. Bedda d'intra la notte è la serenata, tratta dalla baronessa di Carini, che io in un qualche modo ho riscritto, che ho riscritto con il titolo di Storia di Laure e Ludovico. Perché Storia di Laure e Ludovico? La storia della nostra baronessa di Carini è esattamente la storia di Paola e Francesca. Sono due storie assolutamente parallele, solo che quella storia dantesca viene ricordata come una grande storia d'amore, mentre la storia della nostra baronessa e del suo Ludovico viene ricordata come una storia di violenza. Quando ho riscritto questa baronessa ho sentito il bisogno di affermare che anche la nostra è una grande storia d'amore. Bedda d'intra la notte è la serenata che Ludovico Bernagallo canta a Laura sotto il suo porto. Mentre S. Mucca, che è pure del 97, io trovo S. Mucca, però non mi ricordo di che cosa tratta. S. Mucca è sostanzialmente il titolo del quarto disco che ho fatto, e l'ho pubblicato nel 97, ed è in un qualche modo, la presento sempre come una canzone sulla testardaggine, sulla determinazione a volere restare presenti con la propria specificità, con la propria identità, con la propria personalità, contro qualsiasi tentativo di omologarci tutti, di renderci tutti uguali. Il mondo è un posto meraviglioso perché siamo diversi, ognuno ha un suo patrimonio da mettere a disposizione con gli altri. Noi S. Mucca vogliamo restare... Molto bella è pure Vucceria, che è attualissima perché la Vucceria è sempre argomento del giorno, e quindi questa secondo me è immortale, questa Vucceria rimane immortale. Ti ringrazio molto. Vorrei ora affrontare il tema della buona novella, perché è affrontare il tema della tua presenza presso l'Università di Palermo. Ecco, come mai tu vieni chiamato all'Università di Palermo? Cioè il cantastore nell'immaginario collettivo è uno, insomma, è pure abbastanza ignorante. Noi stiamo dimostrando che non è così, e che tra l'altro appunto Francesco Giunta viene chiamato all'Università perché le sue canzoni diventano oggetto di studio degli studenti dell'Università di Palermo. Sì, perché opportunamente... Perché in questo contesto tu canti alcune cose, tra cui la buona novella, ma ce ne sono altri come Cola, Scalea, Valacalia, però partiamo dalla buona novella anche perché abbiamo questa esigenza di seguire quest'ordine che ci siamo imposti. Ma molto volentieri. La buona novella nasce dal voler coniugare in un unico lavoro le mie due grandi passioni. Da un lato quella per Fabrizio Di Andrè, che rappresenta secondo me il massimo della canzone d'autore in italiano. Ho sempre detto che basterebbe l'opera di Fabrizio Di Andrè per giustificare l'esistenza della canzone in italiano. Quindi da un lato questa passione. Dall'altro la passione per questo testo straordinario della buona novella che, come ricorderai, venne pubblicato quando, penso, entrambi eravamo giovanotti, diciamo. E quindi è una cosa meravigliosa che personalmente, ed è una cosa che ho scritto e che scrivo e dico costantemente, mi ha aiutato a crescere e forse ad essere migliore, dico. Sicuramente è una cosa che mi è servita molto dal punto di vista della maturazione. Da adulto ho sentito il bisogno di riesprimere quelle meravigliose parole che Fabrizio aveva scritto per tutti noi, di tentare di esprimerle nella mia lingua, nel mio dialetto, nel mio codice. E da lì, appunto, questa idea di farne la traduzione integrale. La novella a cui mi ha fatto intanto innamorare di De Andrè, perché io prima ti devo dire che non lo apprezzavo. Perché credevo che appunto fosse troppo, tra l'altro è un religioso, pensavo che lui non fosse, tra l'altro non era lui un cattolico. Però il fatto strano è proprio questo, com'è possibile che un cattolico riesca a scrivere questi versi di canzone che poi sono veramente incredibili. E questo colpisce, ecco. Io dico, ecco, la potenza della religione è proprio questa. Ma io, come dire, per certi aspetti penso che proprio in questo tempo, con questo nuovo Papa, la visione di De Andrè rispetto alla questione cristiana trova una sua conferma, una sua rivalutata. Fabrizio ha avuto questa capacità di fornire religiosità a chi pensava di non averla, no? Una religiosità incentrata sull'uomo che può trovarci vicini, al di là poi del dettaglio confessionale. Le canzoni sono, io non so se la gente conosce la buona novella di De Andrè, però le canzoni sono tutte incredibili, non c'è nessuna. Poi il Laudate Domini, incredibile, che è la conclusione poi. Ti volevo dire, ma la tua presenza all'università, mi vuoi spiegare perché sei stato chiamato all'università? Ma ecco, intanto all'università c'è un polo dialettologico molto importante anche a livello internazionale che fa capo al professore Giovanni Ruffino e quindi c'è un'attenzione particolare per il dialetto. E sia il professore Ruffino che il professore Sottile hanno ritenuto che il mio modo di scrivere fosse degno e adatto per essere raccontato nell'aula magna dell'università. Pertico, possiamo parlare del tuo dialetto? Tu quale dialetto adò? Perché noi abbiamo un dialetto siciliano, ma anche palermitano, perché il dialetto siciliano è un miscuglio. Ma questo è stato uno dei temi proprio di discussione con i ragazzi. In palermitano, dico... Ecco, diciamo che io per mia fortuna ho, anche lì, ho avuto modo di restare immerso in questo lavoro. Perché tutti sappiamo che non è facile scrivere il dialetto. Eh sì, in effetti c'è questa difficoltà perché non esiste un unico modo di scrivere il dialetto, no? Perché anche lì, insisto sul termine fortuna, perché continua a considerare una ricchezza il nostro dialetto. e dice giustamente il professor Ruffino esistono tanti dialetti siciliani per quanti sono quelli che lo parlano. Ognuno ha il suo proprio, quindi è una... ma questa varietà è ricchezza, secondo me. Non è confusione anche perché... Ma pure a Palermo stesso in alcune zone si parla in un modo, ma poi alla calza si parla in un modo, a partanna si parla in un altro modo. Queste differenze, ricorderai, erano molto più marcate 30 anni fa, 40 anni fa. Certo, perché la città era abbastanza isolata. Isolata, i quartieri stessi erano... I quartieri stessi mantenevano la propria identità. Identità. Oggi ci siamo un po' tutti mediatici. Io ho subito inevitabilmente questo processo, diciamo, di... Ti posso fare una domanda a tu di quale zona di Palermo sei? Io sono nato ai Danisinni, quindi... E quindi indubbiamente hai queste influenze. Assolutamente, e ho parlato in dialetto per tutta la mia fanciullezza fino a quando poi non arrivò la scuola, no? Poi a scuola... Dove si doveva tradurre in italiano per poter parlare dal siciliano. In italiano, difficoltà enorme. Io ho avuto modo proprio in questo lavoro che ho fatto con questi professori universitari, mi è stato chiesto di ricostruire la mia... Termine che sconoscevo fino a qualche tempo fa, la mia autobiografia linguistica. Sostanzialmente io ho dovuto raccontare, ho dovuto ripercorrere la mia storia dal punto di vista linguistico per capire come mai poi sono partito dal dialetto, passato all'italiano e poi ritornato dal dialetto. Insomma, è stato un... In questo percorso racconto che io parlavo, appunto, era un bambino dei danesini che parlava in dialetto. A scuola mi era stato vietato questo dialetto e aveva un insegnante che era tremenda. Cioè ogni volta che tu parlavi... Ti puniva. Ti puniva e ti buttava fuori. Una volta, invece, capitò... E questo è uno dei ricordi più belli che ho della scuola, tra l'altro. Capitò che arrivò una supplente. Cioè questa maestra stava male, arrivò una supplente. In quel periodo in cui il dialetto è celevetato, questa maestra ci lesse e ci spiegò l'ulabro di Giovanni Meli a Puzzanica, sì. Lasciandoci tutti di stucco. Cioè noi avevamo vissuto per mesi il terrore. Un'oppressione. Invece questa arriva... Eh, rim rimma a Puzzanica, non ne vai a così mattino. Cioè questa cosa... Dilla, se te la ricordi, dilla. Poi... Sì, dice sostanzialmente così. Rim rimma a Puzzanica, non ne vai a così mattino. Non c'è cima a Carrossica, dilla monti a noi vicino. E poi... Te la ricordi perché in effetti ti ha colpito. Ti ha colpito. E lì fu, diciamo, uno dei primi... Senti, io qua mi ritrovo, come ti dicevo, un elenco immenso di canzoni. Però, indubbiamente, non ti posso non chiedere di Cola scaleva la calia, che è una delle tue più conosciute. Cola scaleva la calia, sì. Però l'hai cantata pure all'università. Eh, perché lì è stata fatta un'analisi... Io non l'avevo vista, io credevo che tu ti fossi fermato alla Buona Novella di De Andrè. No, no. Invece, no, si è andato oltre. Proprio, diciamo, per sottolineare questa forza, non tanto del mio scrivere, ma, insisto, questa forza del dialetto, nell'essere una lingua capace di affrontare l'alta poesia, che è quella della Buona Novella, ma anche l'umorismo, diciamo, immediato. E allora, per questo, diciamo, mi è stato chiesto di fare sia questa rivisitazione, questa rielaborazione della Buona Novella, che alcuni testi umoristici, tra i quali, appunto, con la Scalia Valacalia, che è una serie di scioglilingue, insomma, che utilizzo, tra l'altro, spesso per chiudere i concerti e per chiudere... Sì, in allegria. In allegria con la festa. Ah, beh, c'è Troppo Povero Vello e pure... Troppo Povero Vello è un'altra delle cose che ho scritto davvero quando era ancora giovanotto, ed è un'altra delle cose che divertono molto sia me che gli altri che... Però, dico, ce ne sono alcune particolari, perché è un panaro fuori uso, che è praticamente una marcorcia, ricordi tu la fanciullezza di questo panaro, che prima si usava, veniva tirato giù dal balcone, quindi, dico, tutta questa serie di cose, rivivi, rivivi la fanciullezza. Questo è pure moderno, oppure io non ho la data di quando è stato scritto? Allora, il panaro fuori uso è una delle cose che fa parte del primo disco che ho pubblicato... Però poi hai riproposto. L'ho ripreso, sì, di recente, perché è uno di quei testi che ti restano affortunatamente addosso. Mentre era Nico, però mi ricordo, pensavo che fosse la stessa cosa. Ed è la stessa cosa. Era Nico, però mi ricordo, è il primo verso, Rupanaro fuori uso, che Alfredo Lofaro, il produttore del disco più recente che ho fatto, ha scelto come titolo del disco. E la Nico, però, mi ricordo, è sostanzialmente un po'... Quindi, allora... Sì, è la chiave di lettura di questo disco. Mi sono lasciato volutamente ingannare, quindi se la ripropongo... No. Per esempio, l'Ave Maria l'ho riproposta due volte nei filmati che vedremo, perché, esempio, Ave Maria, ma come mai tu decidi di cantare tu Ave Maria, sempre di D'Andrea, quando generalmente è cantata da una voce femminile? Ma è talmente bella, dici tu, che non ti sei lasciato... No, intanto, diciamo, appunto, è una cosa che talmente, appunto, ti prende che non puoi non cantare almeno una volta. Io adesso spero di rifarla, questa buona novella, ma lì proprio con l'uso anche di voci femminili, ospitando altri a cantare. Senti, poi ne abbiamo altri, Adasci, adasci, cala lo sole. E poi quello, soprattutto, Quando è guerra. Che cosa vuoi dire, Quando è guerra? Quando è guerra è una canzone che ha una data precisa, diciamo, purtroppo, perché è stata scritta nella notte in cui sono morti i due ragazzi di fronte il Meli. Ah, ecco, sì, Milella, la figlia del questore Milella, Giuditta Milella, l'altro non ricordo. Si chiamava Biagio, Biagio non ricordo, con Giuditta e Biagio, i due ragazzi morti lì per via della scorta che uscì fuori strada, una cosa drammatica, nessuna intenzione da parte mia di assegnare una chissà quale responsabilità, era il clima in cui si viveva, tra l'altro la scorta di Paolo, Borsellino, era una... E quindi, diciamo, nacque in quella notte proprio, per l'indignazione, la rabbia di questi morti innocenti in una città che non meritavano. Certo. Allora, si siamo lasciati prendere le canzoni, abbiamo dimenticato il percorso, diciamo, musicale di Francesco. Nel 91 tu costituisci l'associazione Cielo Zero, e poi il Teatro del Sole, vogliamo parlare di queste tue iniziative? Sì, nel 91 nasce questa associazione perché avevo, come dire, lanciato l'idea di raggrupparsi intorno ad un progetto che era appunto questo di tentare di scrivere in siciliano con una proiezione verso il futuro, sia dal punto di vista dei temi e dei testi che dal punto di vista musicale. Quindi intorno a Cielo Zero cominciarono a lavorare con me musicisti come Giuseppe Greco, Giuseppe Cusumano, con i quali poi ho davvero fatto tanto. In quegli anni la canzone d'autore in siciliano, seppure c'erano delle cose già in giro, non aveva ancora, diciamo, questa forza di presentarsi come un progetto importante. Quindi sostanzialmente pensammo di contribuire a questa idea. Inevitabile che si arrivasse poi alla fondazione di un'etichetta discografica come è stata Teatro del Sole che ho fondato nel dicembre del 96 perché purtroppo, diciamo, ecco, la Sicilia ha vissuto questa spaccatura. Da un lato Catania che ha un suo polo anche molto efficace dal punto di vista musicale e discografico, no? Palermo, da quest'altra parte, non ha mai avuto un'etichetta di riferimento, delle iniziative discografiche di un certo livello. Allora nacque il Teatro del Sole con il tentativo di sopperire a questa mancanza e soprattutto di assolvere al primo compito che è stato quello di ripubblicare interamente in CD l'opera di Rosa Balestreri che è la voce di partenza di noi tutti, insomma. Però tu non hai voluto mai cantare le canzoni di Rosa Balestreri o perlomeno solo qualche volta. Ma io... Per quale motivo? Beh, intanto per un fatto di affetto e di rispetto nei confronti di Rosa non me la sento. Ma era un modo per rendere omaggio a questa grande... Sì, difatti ogni tanto lo faccio, diciamo. Non mi sento di considerarla una cosa che pratico normalmente perché la voce di Rosa è già talmente bella che secondo me andrebbe ascoltata quanto più possibile da tutti, cosa che è sì avvenuta ma non ancora ai livelli giusti che merita, diciamo. Tra l'altro io sono finito in tutta questa storia come ho raccontato in alcune occasioni, tra virgolette per colpa di Rosa, diciamo, perché io non pensavo di fare il musicista, di esibirmi, io pensavo di restare un autore sostanzialmente. E invece lei una volta sostanzialmente mi costrinse per quello che mi disse a... Però ti piace esibirti perché io ti ho visto e ti trasformi completamente. È inevitabile. Quando poi... Praticamente tu in questa intervista sei molto remissivo, però in effetti... No, vabbè, ma... Poi quando sei davanti al pubblico ti gasi, ti carichi a tal punto... Come sai sono due dimensioni davvero diverse. Io tra l'altro, lo dicevo prima, devo proprio a te una delle prime mie esibizioni pubbliche in questa città, negli anni in cui eri... avevi l'incarico di assessore... Nella Play Store, praticamente. Ma proprio di recente ho pubblicato un paio di foto, di concerti fatti in quegli anni a Piazza Politeama e lì abbiamo un periodo in cui abbiamo tutti e due i capelli... Io guarda sostengo, dico al di là, sostengo che veramente gli artisti palermitani andrebbero sostenuti perché a Palermo c'è molto, diciamo, da fare per gli artisti. Purtroppo il periodo è quello che è e quindi tutti gli artisti subiscono, diciamo, una serie di... come posso dire... non sostegno che rimette in grandi difficoltà. Diciamo, è un discorso molto generalizzato, però io dico che l'arte andrebbe sostenuta realmente, sia i teatri pubblici, per esempio, che i teatri privati, quindi le iniziative pubbliche e le iniziative private. Manca ancora un progetto, diciamo, unico per questa città che abbracci le varie forme d'arte e le varie strutture che possono sostenerla e che soprattutto si occupi in modo specifico degli artisti e delle cose che nascono in questa città, soprattutto dei giovani che possono fare, dare un grosso contributo. Cosa, cosa... io dal punto di vista conosco, come... dal mio punto di vista conosco benissimo le difficoltà che ci sono, però insisto su quella cosa che dicevo prima, è semo caccio. Io non... E difatti siamo... Continua ad essere presente. Io spero che questo augurio che ha rivolto Francesco Giunta possa essere recepito da tanti e si possa portare avanti soprattutto alla tradizione popolare siciliana e soprattutto alla canzone popolare siciliana e palermitana in particolare. Io ti ringrazio veramente per questa tua partecipazione, ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito, buonasera a tutti. Buonasera e grazie. Grazie a tutti.